Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di Angoli e qui si ha davvero tanta voglia di spiaggia, sole, mare, insomma di una bella estate. L'estate fa piacere a tutti, insomma è molto rilassante potersi concedere del bel tempo appunto in spiaggia ma rischia di essere dannosa non solo per la nostra pelle ma anche per i capelli. Allora abbiamo chiesto consiglio al nostro hair stylist o parrucchiere di fiducia Francesco Basso, buonasera ben ritrovato. Buonasera a te Vergine e buonasera ai telespettatori. Allora lo dicevamo no, il sole, la sabbia, il mare, anche un po' quella brezza rischiano di rovinarci i capelli, perché? Da cosa dipende? No, dobbiamo proteggere i nostri capelli come noi proteggiamo la nostra pelle, per cui abbiamo dei prodotti di qualsiasi fascia, fascia sia medio che medio alta, comunque con protezione UVA, ma soprattutto proteggerli dal sole, non tanto dal mare, dall'acqua salata, ma dal sole. Per cui dobbiamo proteggere con degli oli, dipende dai tipi di capelli, ci sono oli solubili e oli comunque che poi sono più grassi degli altri perché hanno più protezione. Ecco, te consigli l'olio, effettivamente nel mercato si trovano, supermercato oppure comunque negozi specifici, si trovano vari tipi di formulazioni, l'olio secondo te è il migliore? L'olio sì, perché comunque sia solubile in acqua sono per capelli più fini, comunque che hanno bisogno di una protezione ma non di appesantirli, mentre i capelli più scuri o comunque grossi hanno bisogno di più protezione. Tutto il bisogno è saper scegliere per capelli fini o capelli comunque medio o medio grossi, capelli trattati e meno trattati. Un po' tutti sono i capelli oggi trattati, con la colorazione, con le schiariture, per cui bisogna quando si compra un prodotto farsi consigliare e scegliere quello giusto. Ma comunque portare prodotti solari per proteggere i nostri capelli che comunque è un bene inestimabile. Dici bene, anche perché ci investiamo anche diversi soldi durante l'anno per seguire le tendenze. E appunto tu accennavi al fatto che molto spesso le signore, anche seguendo appunto le mode stagionali, li decolorano. Allora io penso a una signora che ad esempio ha fatto delle mesh o chatouche, come si chiamano adesso, di base bionda. Abbiamo preso una foto che è proprio trovata in internet in uno di quei siti di tendenze di capelli e che rappresenta un po' la sfumatura biondo su biondo. Lì la situazione qual è? Il rischio più che altro è che si vada un po' a ossidare. A ossidare. Può cambiare colore. E allora qual è il... Prima di tutto se noi abbiamo già stabilito che questo colore biondo sia un colore perlato o comunque freddo, sabbia, lì tende un po' a ingiallirsi. E allora con la protezione rischia meno di ingiallirsi, ma soprattutto poi usare dei prodotti che toglie questo effetto giallo, che ci sono dei perlati, ci sono degli sciampi o comunque dei pigmenti molto. Anche lì bisogna stare molto attenti, farsi consigliare bene e lì allora ritorna il suo colore che abbiamo noi stabilito all'inizio dell'incarnato della persona. Perché è importante l'incarnato. Che non è che possiamo tutti fare un biondo caldo, un biondo dorato o comunque un biondo perlato, freddo, sabbia. Esattamente. C'è poi anche chi invece può avere un colore più scuro naturale oppure comunque avere colorato i capelli di toni più scuri. Adesso con l'estate insomma si ha tutti un po' voglia di vedersi più luminosi, di schiarirsi. E molto spesso per alcuni la strategia è proprio quella di esporsi al sole. Mia nonna mi insegnava a lavare i capelli con la camomilla, che doveva essere questo schiarente naturale. Il risultato non si è visto, però mi direi tu appunto come funziona. Allora, gli shampoo e la camomilla, ma c'è dentro un additivo che va a schiarire. Comunque bisogna stare attenti perché poi il processo di questo prodotto chimico che è dentro allo shampoo di camomilla continua a lavorare, non si ferma. Per cui il capello diventa veramente disastrato e si rovina. Per cui un capello che poi non ha più vitalità. Bisogna stare attenti. Anzi, io lo sconsiglio apertamente. Assolutamente non usare questi prodotti qua. Bene, dacci un'altra indicazione per i consumatori. Senza fare il nome, in realtà ci sono anche più di un nome. Tanti prodotti che ad esempio vanno a schiarire tono su tono gradualmente, proprio grazie alla luce solare. Eh, ma lì ci sono degli additivi. È come lo shampoo. Io quello non lo consiglio, assolutamente perché si va a schiarire, ma il processo continua perché poi non c'è, come noi usiamo in salone, che blocchiamo questo processo. Per cui bisogna stare molto attenti perché se il processo continua, il capello continua a lavorare e diventa non ha vitalità. Assolutamente no. Bisogna farselo fare dal suo professionista. Ci sono adesso questi shampoo californiano, si chiamano degli shampoo, quale va a schiarire quel quarto di tono per dare luminosità, ma è un valore di 5 minuti, non di più. E poi noi lo blocchiamo. Ok, e quello allo stesso modo con un olio si evita al sole che... Sì, diciamo lo shampoo americano, però adesso ci sono dei prodotti cosmetici che danno un risultato di color sabbia e per cui dà una luminosità incredibile. Però nello stesso tempo se abbiamo delle mesh o comunque delle schiariture, poi mettiamo del perlato, per cui questo gioco di caldo e freddo è la tendenza che va quest'anno tantissima. Poi lo vediamo comunque... Tendenza che va quest'anno, ma su cui tu hai lavorato già anche negli anni passati. Tant'è che abbiamo messo in regia proprio una serie di foto in cui tu hai riassunto alcune tendenze dell'anno. Questa è già una tendenza che c'è un fondo sabbia con delle ciocche più chiare, molto perlato. Ed è la tendenza che va quest'anno, è tantissimo. Ok, sempre sulle tendenze di quest'anno, ecco lo scuro, diciamo il capello scuro, un castano illuminato sulla lunghezza. Sì, solo sulle lunghezze. Però la crescita deve essere dolce, perché se la crescita è molto importante ha un effetto crescita, per cui di trascuratezza. E anche lì, al sole, perché qui si vede ancora di più l'ossidazione e per cui bisogna usare dei pigmenti per riportare vitalità e colore sulle lunghezze. Andiamo avanti con un'altra foto che è un po' più smorzata come situazione. Sì, qui siamo già comunque sul dorato, su un sabbia è già più dolce. E adesso vediamo anche le foto che risalgono appunto a uno studio che hai realizzato qualche anno fa e che proprio giocava su questi elementi. Infatti l'abbiamo anticipato da qualche anno. Qui abbiamo l'effetto sale, che va tantissimo, proprio di mare. C'è proprio questo effetto salino, che il sale non fa male, è il sole che fa male. Assolutamente. Il sale, l'acqua marina dà le proteine o comunque dei minerali, che va molto bene. Poi chiaramente uno shampoo dopo sole riporta il capello e porta a togliere questa salinità del capello. Questo è già un dorato. Questo è un effetto comunque di mare, sabbia. Senti, ma io ho una domanda. Perché effettivamente se ben ci pensi alla fine della giornata al mare, tutti ci facciamo una doccia, l'ultima cosa che forse abbiamo voglia di fare è prendere di nuovo in mano il phon e così mettersi lì con la spazzola, farsi la messa in piega. Dacci qualche consiglio per un... Allora, intanto ti do una notizia. Proprio oggi abbiamo aperto in Sicilia un corne in una spa che è Baia Samuele, è un centro meraviglioso e per cui proprio oggi c'è l'apertura. Chi vuole chiaramente la sera avere comunque un'acconciatura o farsi una piega. Però io dico che comunque quando tu hai un bel taglio, un bel colore, essere naturale. Oggi è l'effetto naturale, è la cosa più bella che c'è. Dici bene, perché anche leggendo appunto in internet si sente dire che va molto di moda questo beach waves. Addirittura va anche talmente tanto che ancora chi non è andato al mare fa di tutto per procurarsi queste onde da spiaggia. Ma infatti l'abbiamo visto prima, questo effetto sale, no? Ma come si ottiene a parte il sale? Ci sono dei prodotti, comunque sia spray che... sono spray, sia da bagnati che quasi asciutti e dà questo effetto salino. Ok, quindi questo la fa spursarlo. Però deve avere un bel taglio sotto che ha carattere, che abbia veramente una forma. E allora sì, un bel colore. Oggi non bisogna essere schiavi dei capelli, però chiaramente devi già pensarci prima. Certo. E qualche altra indicazione per uno stile appunto senza fond. Io ho letto anche questo effetto bagnato dei capelli. Sì, ci sono dei prodotti che oggi veramente c'è l'imbarazzo della scelta, per cui sono a base di pasta, di gel, che non sono gel. Comunque che hanno questo effetto meraviglioso che poi con questi prodotti li puoi riusarli ancora, umidi dentro un po' le mani, diventano ancora... li puoi cambiare anche effetto. Senti, un'ultima domanda. Abbiamo parlato ovviamente come sempre a un interesse molto femminile, ma adesso mi smentirai perché stando anche alle ultime ricerche sempre più uomini investono nella loro bellezza. Allora, l'uomo negli ultimi dieci anni ha fatto un salto di qualità, soprattutto anche nella coafur ha fatto un salto di qualità, per cui è tornato il barbiere, è tornato quello che è veramente il benessere, ma anche la profumeria ha fatto un salto di qualità non indifferente e ha fatto anche un business veramente notevole, per cui anche lì, che era un po' in crisi, è diventato su, grazie all'uomo. Anche se l'uomo, devo dire, che comunque il mascolino è... come si può dire? Deve essere comunque maschio ed sta tornando, diciamo, il barbiere, perché questa è la cosa più importante. E ci sono dei saloni, dei negozi in giro per l'Italia, meravigliosi, per cui sta tornando quello che è la barba all'americana, la barba all'italiana, per cui il culto del barbiere. E questa è una cosa bellissima. Ma è vero. Allora, Francesco, grazie, grazie mille per essere stato qua con noi, ci rivedremo ovviamente a settembre, dove saremo in ultra attesa delle tendenze per l'autunno, per l'inverno, insomma, la nuova stagione. Ci dirai che colore andrà? Io mi auguro che torni anche un po' un castano più deciso. Ma no, il castano c'è molto, tantissimo comunque per l'autunno. Bene, mi fa piacere. Allora, buone vacanze e in bocca al lupo per l'esperienza in Sicilia. Buone vacanze a voi, a tutti i telespettatori, buone estate, a te, un abbraccio fortissimo. Buone estate, Virginia. L'appuntamento con Angolico torna come sempre domani alle 19. Adesso vi lascio tutte le notizie di ETG Prima Pagina e poi a seguire Target, a domani.